Ecco, adesso è arrivata la Liana. Liana, veloci ora, veloci ora. Vedete, ora se ne sta andando. Dove vai? E' una persona, Liana. Eccolo, cominciò alle voli, eh? Liana. Ehi, denuncia. Dove va questo treno? Che ti ha a trovare? Che ti ha a trovare? Che l'ha questa? Che che l'è? Una foglia. Liana. Ehi. Ehi.